Stiamo completando il nostro schieramento, tra poco c'è anche il labaro dell'Associazione Nazionale Alpini, gli alpini sono grandi per questo. Cristo, il buon pastore, il pastore bello, il pastore buono, il pastore vero, è risolto, è risolto, ancora più forte, alleluia, ancora più, più forte, alleluia. E governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo, di fede e di amore, salvaci dal gelo implacabile. Siete pronti? Ok? Vado maestro. Siete pronti? Siete pronti? grazie grazie maestro è un onore per noi onori all'Apano dell'Associazione Nazionale Alpini grazie 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 grazie